Terra Amara Anticipazioni, in questa puntata succederà qualcosa che ti lascerà completamente sconvolta. Rimani fino alla fine perché oltre a svelarti una clamorosa verità, ci sarà una bella sorpresa per te. Nel cuore di una cucurova sconvolta, l'enigmatica scomparsa di Zuley a scuote le fondamenta della tranquillità locale. In un intricato intreccio di eventi, Akan si rivolge al fidato Fikret per riportare la ragazza alla luce. E finalmente, tra il sollievo e la gioia, Zuley a fa capolino dal buio, rivelando il suo nascondiglio e la sua voglia di distanza da Akan. Ma il caos è appena cominciato. Mentre Zuley a torna alla villa con il cuore pieno di incertezze, Akan decide di svelare la verità, scommettendo sul rinnovamento della loro relazione. Tuttavia, per Abdul Qadir, l'orrore è dietro l'angolo. Tra confessioni e misteri risolti, il destino si avvolge in un vortice di azioni oscure. Alirizza svela una verità scioccante al pubblico ministero, gettando l'ombra su Abdul Qadir. E così, nel buio della notte, mentre Kukurova è sospesa tra speranza e disperazione, Fikret si erge come baluardo della giustizia. Ma l'eco della sua vittoria risuona più forte, mentre il volto della città cambia per sempre. E mentre le strade si illuminano di commenti e acclamazioni, c'è chi soffre nell'ombra. Betul, angosciata dalla prigionia di Abdul Qadir, trova il coraggio di chiedere aiuto a Akan, ignaro del suo ruolo nel labirinto di tragedie. E mentre il destino li avvolge tutti, Akan affronta la sua parte, consapevole che la redenzione non arriva senza sacrifici. Nel cuore di un oscillante tela di inganni e tradimenti, Akan si trova al bivio tra il dovere e il desiderio. Determinato a orchestrare una fuga audace, si prepara a mettere in gioco tutto, il suo matrimonio, il futuro con Zuleia e persino la fiducia di chi lo circonda. Mentre l'alba sorge timidamente, Akan si avventura nella grigia prigione, pronto a mettere in atto il suo piano rischioso. Ma il destino è imprevedibile e gli affetti si intrecciano in un intricato gioco di alleanze e sospetti. Abdul Qadir implora Akan di non sacrificare ciò che ha costruito con Zuleia, ma il protagonista ha già gettato le basi della sua fuga. Quando Zuleia scopre la verità, il suo cuore si spezza. L'amore è offuscato dal tradimento, e la fiducia vacilla sulla soglia del tradimento. Ma Akan, abile nel tessere la tela delle bugie, riesce a placare il suo sospetto, mentendo per proteggere il suo oscuro segreto. Tuttavia, la tragedia è in agguato. Abdul Qadir, parte centrale del macabro piano di fuga, viene accoltellato e qualcuno richiede di trasferirlo, ignaro del destino che lo attende. E così, tra le ombre della prigione, il destino si tesse intricato e implacabile, mentre Akan tenta disperatamente di plasmare il suo futuro su un terreno instabile e pericoloso. Il piano di Akan, riuscirà ad andare in porto? Se vorresti saperlo e desideri il continuo della storia, scrivi il sì nei commenti e riceverai in antepasso.